Siamo in piazza in solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori di Francia che stanno scendendo la settimana in piazza contro la riforma delle pensioni che è stata approvata da Macron E per segnalare la solidarietà anche dei cittadini e delle cittadine napoletane alla lotta dei francesi per la difesa delle pensioni La ghigliottina che ha le mie spalle è un simbolo per noi della rivoluzione francese è un simbolo anche di quello che dobbiamo fare cioè decapitare sostanzialmente questo potere che non è semplicemente quello di Macron ma quello dei grandi centri finanziari che promuove queste riforme delle pensioni e stare insieme a quei giovani che stanno in piazza non perché semplicemente sono contro la riforma delle pensioni ma perché vogliono portare un principio di fondo che è di base la questione non è soltanto la riforma delle pensioni la questione di fondo è cosa ne facciamo delle nostre vite le nostre vite vanno molto al di là delle ore di lavoro e dell'età da lavoro diamo tutta la nostra solidarietà non tanto alla Francia che manda le armi, l'Ukraine non voglio affrontare questo tema ma con i lavoratori francesi, i pensionati francesi quello sì che è una solidarietà che è battata e noi gli stiamo dando